L'incontro di oggi ha lo scopo di discutere insieme ai nostri eccellenti invitati su un contesto, un punto di partenza che un volantino che Comunione e Liberazione ha fatto in occasione delle elezioni amministrative. Per parlare di questo volantino oggi abbiamo invitato il sindaco Giorgio Gori che ringrazio molto della sua presenza e colgo l'occasione anche di ringraziare per la collaborazione veramente anche piacevole che abbiamo avuto quest'anno per proprio questa manifestazione. Il professor Lucio Cassia che sapete è oltre che esigno professore, non elenco tutti i titoli universitari che ha, è anche presidente di SESAB, la società che edita tutta la stampa locale. Il professor Carmine Di Martino, docente di filosofia teoretica all'università statale di Milano. Quando ci sono state le elezioni amministrative, Comunione e Liberazione ha fatto questo volantino, ma non solo per le elezioni amministrative, l'ha fatto come proposizione, come proposta, giustamente il professor lo chiamava position paper, come come proposta di quello che poteva essere un punto da discutere insieme, su cui lavorare insieme. Io lo riprendo proprio in due minuti. Il volantino parte da mettere a fuoco un punto che ormai è abbastanza riconosciuto, la crisi della politica, almeno per chi la vede dal di fuori, legato a tante questioni, a iniziare da scandali presunti o reali, sprechi, contrasti di vario tipo, eccetera, eccetera, che sottolineano una crisi della politica che è legata al crollo di una tensione ideale, dice il volantino. In particolare, dice secondo me, in modo molto interessante, al venire meno di un'esperienza integrale della persona. Noi siamo qua in questi giorni a ragionare sul titolo, che cosa cercate? Quando si dice esperienza integrale della persona, si intende il fatto che la persona quando si muove, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista sociale, tiene conto di quello che desidera, ma di quello che desidera realmente. E, visto questa crisi, il volantino dice che è necessaria una ripresa ideale per il bene comune. Appunto, pone questo tema del bene comune, ripartire dal perseguire nei fatti il bene comune, il bene tuo, il bene nostro e il bene di ognuno. E cita una frase di Papa Francesco, abbastanza recente, proprio sulla politica, che leggo perché secondo me è molto significativa, è un po' il cuore del volantino. Dice il Papa, Paolo VI ha detto che la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune, pensando le strade più utili per questo, i mezzi più utili. Cercare il bene comune lavorando nelle piccole cose, piccoline, da poco, ma si fa. Fare politica è importante, la piccola politica è la grande politica. Poi sotto dice, fare politica è davvero un lavoro martiriale, perché bisogna andare tutto il giorno con quell'ideale, tutti i giorni con quell'ideale di costruire il bene comune e anche portare alla croce di tanti fallimenti e anche portare alla croce di tanti peccati, perché nel mondo è difficile fare il bene in mezzo alla società senza sporcarsi un po' con le mani o il cuore, ma per questo vai a chiedere perdono, chiedi perdono e continua a farlo, ma che questo non ti scoraggi. Il volantino poi dice proprio per questo, che partire da questo vuol dire innanzitutto ripartire dal basso e sottolinea un'idea di politica veramente interessante secondo me, che dice che la politica non è innanzitutto gestione del potere per il potere, ma la politica è un servizio che puoi compiere anche quando si ha ben poco potere, anche trovandosi all'opposizione, amministrando dagli scranni della maggioranza senza tornaconti personali, in una rinnovata responsabilità verso i bisogni della gente. Infine, che cosa tenere presente in questo nuovo percorso? C'è una proposta centrale del volantino, che è questa, è che l'altro è un bene, riassunta da una frase di Don Carron, dice, per questo ciascuno mette a disposizione di tutti la sua visione e il suo modo di vivere, questa condivisione ci farà incontrare a partire dall'esperienza reale di ciascuno e non da stereotipi ideologici che rendono impossibile il dialogo. Per questo, dice dopo, ci vogliono luoghi che risvegliano l'io di ciascuno, lo educano a un rapporto adeguato con la realtà. E poi il volantino fa delle esemplificazioni. I relatori oggi potranno farne da par loro, dentro quello che è la loro esperienza quotidiana. Per introdurre la prima domanda, io farò tre domande a cui vi chiederei di rispondere brevemente ciascuno di voi. Io riprenderei uno spunto che ci ha dato ieri Luciano Violante, il professor Violante, ex Presidente della Camera dei Deputati, che è stato qua in un incontro molto bello, in cui tra l'altro anche lui sottolineava questo, cioè la necessità, lui usava il termine, di costruire comunità perché ambienti di confronto possono generarsi. E parlando di che cosa cerca lui, lui ha detto io cerco il nocciolo della verità, dentro quello che faccio cerco il nocciolo della verità. Ha parlato della sua esperienza politica, nello svilupparsi di questo sappiamo che lui è stato un professionista della politica e è arrivato a usare questa formula, cercare il nocciolo della verità che secondo me è realmente connesso all'idea di bene comune, perché come fa uno a realizzare il bene comune se non è un cercatore di verità? Allora la prima domanda che io vorrei porre, a cominciare dal signor Sindaco, è proprio questo. È possibile oggi in politica essere cercatori di verità? Discutendo con tanti politici negli anni passati, ma anche più recentemente, anche amici, a volte mi sono sentito dare dell'illuso, come dire, la politica ha le sue leggi, bisogna perseguire e stare alle regole che essa ha, che sono quelle che il proprio partito deve vincere, che è qui che è là. Allora io molto onestamente voglio chiedervi questo, perché questo secondo me invece va a finire, alla fine a giustificare un distacco che può essere rispetto alla politica. E' possibile per voi, e come questo si realizza, cercare la verità in politica? Prego signor Sindaco. Dai facciamo che togliamo il signor almeno, facciamo una cosa un pochino più informale. La domanda corrisponde ad una battuta che ha fatto ieri Luciano Violante, e usa un linguaggio che curiosamente tiene insieme Violante, Comunione e Liberazione. e però introduce il tema, che è un tema ampio, a cui non ho nessuna intenzione di sfuggire, attraverso una chiave che è quella della ricerca della verità, che personalmente non, nella quale personalmente non mi riconosco. Nel senso che io non mi sveglio mai la mattina e dico voglio cercare la verità. Poi forse nello svolgere delle mie giornate faccio esattamente le stesse cose che fa uno che cerca la verità, ma lo dico soltanto perché torna meno del passato, devo dire, perché il volantino è scritto secondo me in un modo che segna delle novità di linguaggio rispetto a come io sono abituato a leggere i testi di Comunione e Liberazione. Ma torna ogni tanto, e questa domanda lo ripresenta, un gap di natura linguistico che potrebbe essere oggetto di un altro dibattito, perché CL abbia bisogno di usare un linguaggio tutto suo che da una parte certamente ne costituisce fondamento di identità, perché ci si ritrova intorno a un codice linguistico, e dall'altra però vi garantisco che segna una distanza rispetto a chi non usa correntemente quel linguaggio. Per esempio, la citazione di Don Jaron riporta esattamente al codice linguistico tradizionale. La prima parte del volantino sembra che l'abbia scritto un altro. Allora, vabbè, adesso questa era una premessa, però, quindi per dire che non saprei rispondere alla domanda uno cerca la verità. Sì, certo, qual è il contrario della verità? La menzogna. Non è che uno cerca la menzogna. È più interessante chiedersi che cosa cerchiamo. Cioè la domanda è più aperta. Secondo me, adesso io vi posso rispondere per me, non in generale, nello svolgere il ruolo che la maggioranza dei miei concittadini ha ritenuto di affidarmi un anno fa, io cerco di fare il bene. Tutto quello che posso, sapendo che poi la parola bene, volutamente non uso di nuovo bene comune, che mi sembra un'espressione un po' di moda e un po' abusata, da Bersani in giù, ma il bene invece è una cosa che dura. Questo bene ha mille facce, ed è il fatto che le persone hanno bisogno di vivere in pace, per esempio, che hanno bisogno di sviluppare sentimenti di fiducia, di sicurezza, che hanno bisogno di lavorare per sentirsi pienamente persone in modo integrale, che hanno bisogno di poter contare su scuole buone per i propri figli, che hanno bisogno di poter camminare per strada senza aver paura di essere investite, che hanno bisogno di poter vivere in un ambiente salubre, amano la bellezza e quindi è giusto che in qualche modo il loro benessere, il loro bene è anche nel costruire un mondo che sia più bello. Hanno bisogno di nutrire, oltre che la pancia, anche l'anima e quindi la cultura è un fattore di benessere di una comunità. Questo per fare solo una minima parte degli esempi che potrei farvi, perché veramente non c'è confine. Anche riparare una buca è fare il bene, certamente. Ma non lo è meno il costruire condizioni di accoglienza, di fratellanza, che oggi ci rendono diversi da altri amministratori, che chiudono le loro porte, e invece ci impegna questo a cercare faticosamente di essere appunto accoglienti. Quindi questo è l'impegno che ci muove. È l'impegno che mi muove, sapendo che riesco a fare un decimo, un centesimo di quello che dovrei fare. Quindi sono sempre in una condizione di insufficienza rispetto a ciò che mi sono prefisso, e che gli altri si aspettano da me, e che quindi la tensione, la mattina dopo cercare di fare un pezzettino meglio. È la dimensione del servizio che incarna per un amministratore la dimensione dell'amore verso gli altri, che credo sia la cosa che ci tiene insieme, che è molto trasversale anche alle storie politiche, alle ideologie, all'essere di destra e di sinistra. Ci sono persone che amano, che hanno capacità di esprimere nel loro lavoro, nella loro professione, nell'incarico politico, questo amore per gli altri, in tutte le aree dello spettro politico. Quindi non ne faccio una questione di parte, ovviamente. Io spero che questa cosa si senta, si percepisca, perché è anche, ma non voglio sforare rispetto alla domanda che mi hai fatto, forse è l'unico modo laddove si veda questa cosa che può costituire testimonianza, e quindi esempio, e quindi motivazione per altri per fare altrettanto, per provare a fare altrettanto. Grazie. Professore, la stessa domanda, verità e bene comune. Io e Giorgio ci vediamo abbastanza spesso e siamo molto in sintonia sui temi su cui siamo vicini. L'amministrazione e l'università stanno facendo cose molto belle, anzi, noi come università siamo molto grati a questa, anche alla precedente, per la verità, ma a questa amministrazione, per ciò che di bello facciamo. Però adesso, ascoltandolo, ho capito che abbiamo delle complementarità. Giorgio ha detto, io quando mi alzo al mattino, ha detto, non mi chiedo, non me lo chiedo, non mi faccio un'esplicita domanda di cosa sia la verità, no? E ha anche detto che effettivamente questa è una domanda importante, cosa è cercata. Allora, una riflessione su questo e poi una differenza probabilmente tra i nostri due pensieri. Ho già avuto modo di dirti, Michele, che a mio giudizio questa domanda, il titolo di questa edizione è a mio giudizio il più bello in assoluto, straordinario, introspettivo. È introspettivo perché ognuno dà una propria risposta. A me viene di dare, mi viene di dare due risposte. Una di tipo personale e una di tipo professionale. Una di tipo personale è certamente di valenza escatologica perché il cosa cercate è davvero la domanda, la domanda della vita probabilmente. No, non è che uno si alza e se lo chiede francamente. Però, mentre Giorgio parlava, io riflettevo tra me e me, io non me lo chiedo esplicitamente ma me lo chiedo in ogni azione che faccio ogni giorno senza chiedermelo esplicitamente perché proviamo a pensare in cosa cercate. Non ci sono dietro le grandi domande della vita. Chi sono, da dove vengo, dove vado, il senso della vita, il dolore nella vita. Non ci sono dietro queste. Secondo me ci sono. Non è solo la domanda evangelica nel Vangelo di Giovanni cosa cercate ai due discepoli. È qualcosa di più, è più profondo, è più intensivo. Quindi non so dare una risposta a cosa cerco. Probabilmente è in sintonia con Giorgio è la verità. Il contrario della verità per me non è la bugia. Il contrario della verità è l'ignoranza. Probabilmente. Mentre dal punto di vista professionale, cioè nella mia attività dell'università, in università, qui si pone molto bene, posso dare una risposta molto più concreta. Perché chi ha la fortuna di lavorare all'università, cioè chi ha la fortuna di fare, concedetemelo, il lavoro più bello del mondo? Molto libero, molto introspettivo, molto di ricerca, perché quando uno incontra un professore universitario normalmente gli chiede cosa insegna. In realtà la parte di insegnamento è modesta rispetto all'attività universitaria, che principalmente è di ricerca, quindi di scoperta di cose nuove. Allora io penso che la risposta che posso dare dal punto di vista professionale è esattamente la stessa data adesso, cioè la verità, il contrario dell'ignoranza. C'è una bellissima espressione di Monsignor Beschi, Monsignor Beschi un paio di anni fa ci siamo incontrati tra professori universitari, si parlava di ricerca e lui usava questa espressione. La ricerca è un'attitudine spirituale, è un'attitudine spirituale proprio perché va alla ricerca della verità e ti interpella personalmente sulle cose più profonde e più importanti della vita. Sul tema del bene comune è vero che sia un termine un po' abusato però c'è una persona che l'ha usato adesso in modo massivo che credo sia molto vicino al nostro ambiente, a questo ambiente e anche al mio, molto molto vicino che è Papa Francesco. L'ha usato in modo continuo perché io sono appena tornato da una settimana di cammino di Santiago e la fortuna vuole che il giorno in cui mi imbarcavo per portarmi in Spagna qui in aeroporto sfoglio il più bel giornale della provincia, lo guardo e ci trovo il commento non solo il commento sull'enciclica appena uscita il giorno prima laudato sì ma ci trovo tutta l'enciclica che quindi mi scarico mi sono detto magari riuscirò a leggerla ora dopo 25 km ogni giorno a piedi non è che sei tanto fresco quindi non fai altre attività fisiche quindi ti metti lì e se riesci a una donna età ti leggi io ho avuto la fortuna di leggere tutta l'enciclica in questi giorni e di meditarla questa non è un'enciclica a sapore ecologista come qualcuno ha scritto è ben oltre questa è un'enciclica profondissima che parla bene e continuamente di bene comune tant'è che il sottotitolo di laudato sì è sulla casa comune non sulla cosa comune sulla casa comune e ripete in continuazione in molti molti passaggi quale sia il significato del bene comune di come il cristiano virgola non solo il cristiano virgola debba intenderlo apposta mi sono riportato un paio di passaggi che se mi è concesso vorrei citare ma li leggo perché non me li ricordo evidentemente a memoria ma c'è un passaggio che dice questo l'attività imprenditoriale che è una nobile vocazione orientata a produrre ricchezza e migliorare il mondo per tutti può essere un modo molto fecondo per promuovere la regione in cui si colloca purché si comprenda che la creazione dei posti di lavoro è parte imprescindibile del servizio al bene comune e poi appena più avanti a metà enciclica più o meno tutta la società e in essa specialmente lo Stato ha l'obbligo di difendere e promuovere il bene comune e in fondo secondo me l'apoteosi quando dice l'amore per la società e per il bene comune sono una forma eminente di carità che riguarda non solo le relazioni tra gli individui ma anche macro relazioni rapporti sociali economici e politici cioè in questo passaggio verso la fine delle encicliche dopo aver citato moltissime non so dire quante ma moltissime volte il senso del bene comune il senso del mercato il senso dell'impegno degli imprenditori il necessario intervento dello Stato per il bene comune fa come dire un ponte sulle generazioni e sostiene il bene comune come elemento di carità ovvero di amore verso gli altri secondo me ce n'è abbastanza per farsene una convinzione che il bene comune debba un po' essere centrale nella nostra vita anche se ognuno poi lo declina come può lo declina nel proprio indiente certo è che coloro che oggi come dice il Papa si martirizzano nella politica io penso che sia davvero così sono più esposti rispetto agli altri però forse ognuno di noi per un pezzo della propria attività deve muovere in quella direzione grazie le stimolazioni sono molte e io ne seleziono alcune è per me naturalmente sindaco dice la ricerca della verità ma cos'è e in un certo senso io lo capisco e lo si può capire perché normalmente la verità è confinata in una astrattezza quindi cercare la verità è un passatempo per oziosi perché la verità non ha nessuna concretezza se però togliamo la verità dall'ambito evanescente e che noi consideriamo puramente teorico e consideriamo per esempio che nella esistenza non tutto ci va bene non tutto noi lo consideriamo come una risposta adeguata alle nostre esigenze e in tutte le attività in cui siamo coinvolti cominciamo a cogliere un senso della parola verità che è più vicino è più interno all'esistenza e possiamo aprirci a questo significato vero è ciò che risponde di più è ciò che risponde di più a quello che consapevolmente o inconsapevolmente cerco esigo lo vedo a volte prima di agire e a volte avendo agito cioè qualche cosa non torna non mi soddisfa non è stata in grado di risolvere una situazione allora se la verità è la verità logica diciamo qualcosa che appartiene alla teoria possiamo disinteressarcene in un certo senso perché dovremmo tradurlo in modo tale da capire di che si tratta ma se la verità è ciò che corrisponde a quello a cui noi aspiriamo vivendo allora nessuno di noi di fatto rinuncia alla verità perché noi discriminiamo distinguiamo tra le cose e per discriminare dobbiamo fare un confronto tra l'esigenza che mettiamo in campo e la risposta che riceviamo dalla realtà allora cercare la verità non è molto distante da quello che il sindaco diceva con cerco il bene cerco di fare il bene sono due cose già diverse che cosa cerchiamo nella vita io rispondo per me e dico non saprei innanzitutto definirlo e non mi porrei questo problema ma so che so distinguere qualcosa che fa al caso mio e qualcosa che invece no fa meno al caso mio e poi posso imparare a chiamarlo bene posso imparare a chiamarlo verità ma so che sono molto critico ed esigente verso ciò che non mi risponde in maniera soddisfacente e adeguata e so anche un'altra cosa se parto da quello che normalmente vivo insieme agli altri uomini nella comunità umana la politica Aristotele diceva che l'uomo è un animale politico che vuol dire che l'uomo è un animale sociale quindi l'uomo vive insieme ad altri non c'è un uomo che possa svilupparsi fuori da un contesto di relazioni scopro anche vivendo insieme ad altri che vi è un ordine dei beni il sindaco li ha elencati quando ha detto per esempio bene è anche non solo qualcosa di materiale bene che ci siano delle strade che non abbiano le buche ma bene anche costruire le condizioni dell'accoglienza della fratellanza e poi diceva anche la cultura è benessere quindi dal benessere alla cultura ci sono degli ordini di beni e li scopriamo tutti indispensabili per vivere perché nessuno di noi si accontenta semplicemente di nutrirsi e noi che siamo tutti animali simbolici come uomini e non ci accontentiamo di nutrirci e riprodurci possiamo certo ridurci quasi ma non ci accontentiamo e quindi noi cuciniamo e ogni regione ha la sua cucina è un ordine dei beni e la nostra aspirazione richiede una gamma di beni non soltanto che non ci siano le buche nelle strade anche certamente quello ma allora vorrei dire che cercare il bene o cercare la verità in questo senso ciò che risponde meglio è una direzione che ha conseguenze pratiche cercare consapevolmente il bene cercare consapevolmente la verità ciò che meglio risponde alle esigenze proprie e comuni è una direzione che produce conseguenze pratiche nella vita politica perché si può cercare un certo ordine di beni per esempio si può cercare un vantaggio personale che in un certo senso è un bene e questo determinerà una certa direzione nell'agire politico oppure si può cercare una gamma più completa di beni e ciò genererà un altro modo di agire in politica la ricerca consapevole della verità come ciò che risponde e del bene che tutti abbiamo bisogno per vivere ciò di cui tutti necessitiamo per vivere cambia le cose fa differenza perciò è possibile in politica essere cercatori della verità non è questo un'ingenuità perché la politica ha le sue leggi se la dichiariamo un'ingenuità dobbiamo rassegnarci al fatto che l'esercizio del potere è sempre meramente distruttivo ed è distruttivo in maniera irredimibile e cioè che il potere nel suo esercizio non può che produrre una negazione non il bene ma il suo contrario cosa che non è ci sono esempi e io credo che non siano esempi solo del passato ma è facile ripetere quello che il Papa Francesco ha fatto per esempio De Gasperi che è una persona conosciuta diciamo se non altro studiata nei libri di storia l'esercizio del potere può essere vissuto concepito anche come servizio cioè secondo quella direzione e poi bisognerebbe anche sfatare un altro mito che sarebbe contenuto nella squalificazione della domanda sulla ricerca della verità a vantaggio invece di un più realistico mantenersi alle leggi della politica bisognerebbe anche demolire questo presupposto che ciascuno potrebbe verificare che si possa disgiungere il bene proprio da quello degli altri se qualcuno riesce a dimostrare che si può realmente disgiungere il bene proprio da quello degli altri cioè che si possa conseguire un bene effettivo qualcosa di realmente soddisfacente a danno di altri e cioè se si riesce a dimostrare per esempio in una famiglia che quello una famiglia in un contesto di relazioni anche ravvicinato come quello di una famiglia che il perseguimento di un bene per un individuo possa essere realmente ottenuto a danno di tutti gli altri allora sì allora bisogna dire cinicamente che è un'ingenuità ma se la nostra esperienza dovesse smentire questo cioè dire che in realtà se conserviamo un minimo di onestà intellettuale di onestà di lettura della vita non è possibile distinguere il bene proprio dal bene degli altri allora abbiamo guadagnato un concetto non astratto di bene comune e abbiamo nuovamente connesso la politica alla ricerca della verità e del bene comune tutto questo chiudo ma mi sembra utile ripeterlo ha conseguenze pratiche non resta nell'astratto cioè nel cassetto di una scrivania di qualche intellettuale e io penso che anche i cittadini cioè noi in una certa misura abbiamo la capacità di distinguere tra tipologie di politici e di modi di fare politica dove sparisce la ricerca della verità e del bene dove invece è inclusa con tutte le contraddizioni e gli affanni che la vita e la storia necessariamente ci costringe ad attraversare ma si vede una differenza grazie allora introduco la seconda domanda che vuole approfondire la prima da un lato e dall'altro centrare il secondo punto centrale del volantino per farlo uso un recente intervento che il custode di Terra Santa ha fatto all'università di Milano in Bicocca recentemente parlando dei cambiamenti epocali di cui siamo testimoni in questo periodo che generano contrasti che sembrano impossibili da sanare diciamo che a livello del mondo questo è evidente basta guardare anche cosa è accaduto ieri ma non è solo a livello del mondo perché se pensiamo per esempio al problema dell'immigrazione ma anche al problema della politica ma anche al problema etico vediamo che ci sono dei come si dice dei confronti che che creano divisioni non neanche solamente tra le parti di pensiero ma anche all'interno delle parti di pensiero il custode di Terra Santa diceva parlando io non posso essere cristiano senza il mio rapporto con musulmani ed ebrei mi rifiuto di pensare di non poter parlare con 18 milioni di ebrei o con un miliardo e 700 milioni di musulmani anche loro sono fondamentali per aiutarmi a scoprire cosa sia la mia esperienza cristiana dall'incontro nasce qualcosa di nuovo dove non vengono cancellate le differenze ma arricchite parlando con l'altro le sue domande le sue provocazioni ti fanno trovare qualcosa di te che non conoscevi io devo accogliere criticamente ascoltare devo entrarci in dialogo la mia identità non può prescindere dalla realtà la realtà è provvidenziale per costruire la mia identità queste cose mi hanno veramente colpito ma non tanto e solo a livello mondiale quanto a livello personale cioè di cosa voglia dire la posizione personale qui mi rifaccio al punto l'altro punto centrale del volantino ponendo questa domanda che cosa vuol dire per voi in politica che l'altro è un bene cioè implicarsi con gli altri dentro le differenze che ci sono buttarsi nella mischia però non perché si deve solo e tanto difendere qualcosa ma perché si vuole perché ci si vuole arricchire prego sindaco insomma io riprendo un po' le cose che sono già state dette nel primo giro mi sembrava interessante in particolare la sintesi di Di Martino rispetto alla possibilità che qualcuno stia bene a dispetto degli altri dice se qualcuno è in grado di dimostrare che uno può essere felice a dispetto degli altri a spese degli altri beh allora è un po' questo il tema anche se io lo declinerei in un altro modo perché non insomma non è proprio il tema non si pone io contro gli altri quanto io nell'indifferenza degli altri questo mi sembra un po' il rischio vero che dobbiamo provare a contrastare cioè esiste una ipotesi di vita piuttosto diffusa che postula il fatto che uno possa essere contento felice nella sua vita anche senza curarsi di come stanno gli altri io non credo che sia così poi non è che ho degli argomenti particolarmente stringenti dal punto di vista logico lo posso dire principalmente a partire dalla mia sensibilità cioè non riesco a immaginare che uno possa fare il suo percorso sacrosanto percorso verso la ricerca della felicità che potrebbe anche coincidere con verità provavo ad ascoltarti prima sostituendo felicità ogni volta che dicevi verità secondo me funzionava perfettamente sono i medievali dicevano che i trascendimenti sono intercambiati il bene il bello il vero quindi siamo tutti giustamente legittimamente alla ricerca di avere la maggior felicità possibile della nostra vita io penso che non sia tanto facile raggiungerla chiudendo gli occhi sulle sofferenze sui bisogni sulle fragilità sulle violenze che abbiamo intorno e quindi prenderci cura di tutto quello che ci sta intorno degli altri è necessario per poter essere felici io non credo davvero a un certo punto si parla di martirio io non mi sento per niente martire anche se sono come dire molto impegnato in questa fase della mia vita a fare quello che sapete ma non è un martirio anzi affronto con molta felicità e leggerezza questo incarico perché è proprio la cosa che voglio fare è proprio la cosa che mi consente di cercare di essere felice alla fine delle mie giornate è quello di prendermi cura oltre che di me stesso oltre che della mia famiglia anche di chi sta un gradino più in là poi l'esperienza del sindaco è micidiale perché sei un terminale di qualunque tipo di stanza da quelle enormi planetarie che ovviamente cedono la misura della tua responsabilità a quello che ti ferma e ti dice ma sindaco in stazione non c'è un posto per potersi fermare mia figlia arriva dal treno io ho paura a quell'altro che ti dice ma non ha visto quel marciapiede di tutto e di più ma a quelli che ti vengono e sono tanti il mercoledì quando ricevo a dirmi io non ho lavoro non ho lavoro da due tre cinque anni e vivo sulle spalle di mio padre e ci siamo venduti tutto e non sappiamo più come andare avanti allora come puoi pensare di essere felice nella tua vita se non provando a farti carico degli altri poi mica tutti devono fare quello che sto facendo io adesso anzi però è farsi carico degli altri anche partecipare alla vita di quartiere dare una mano alla polisportiva prestare un qualunque tipo di forma di volontariato fare una battaglia ambientale promuovere la cultura ripeto teniamo largo lo spettro perché non sia così troppo prescrittivo dobbiamo essere inclusivi nella lettura delle forme di partecipazione alla costruzione del bene ed è molto giusto secondo me quello che si dice in questo volantino a partire dal suo titolo che nella sfiducia il contrasto alla sfiducia quella che porta a dire non me ne interesso più chi se ne frega lo facciano loro non vado a votare parte dal basso parte dalle cose piccole parte dal sentirsi concretamente utili a fare qualcosa ed è un po' questa la questione cioè dobbiamo rendere dimostrabile concretamente l'utilità dell'impegno personale e testimoniare questa cosa perché chi non lo prova non può neanche sapere se è utile o non è utile può legittimamente essere perplesso scettico e non ritenere neanche di provarci ma chi invece sta dentro e vi ripeto a qualunque livello anche il più piccolo della partecipazione alla costruzione della vita di comunità è ha anche il dovere di essere testimone della gratificazione che riporta da questa cosa di come il fatto di prendersi un po' cura degli altri gli riempia la vita gli dia soddisfazione lo faccia sentir meglio lo faccia sentire utile a qualcosa e così mattone su mattone sono mattoni piccoli mi rendo conto ed è molto facile che un mattone grande che sta in cima alla casa che tutti vedono nel momento in cui crolla e precipita e rotola giù distrugga buona parte della costruzione di fiducia che ci siamo affannati a fare per cui basta appunto il cattivo esempio di di alcuni per distruggere la costruzione di fiducia che faticosamente abbiamo intrapreso però non ci perdiamo d'animo io sono io sono convinto di questo non riesco a pensare all'altro modo che gli esempi non c'è non c'è teoria c'è solo pratica c'è mi raccontavano che mi sono ripromesso di provare a fare una cosa simile almeno come l'altro giorno mi avevo partecipato alla presentazione di un libro sulla storia dell'amministrazione milanese di come il sindaco Tognoli fosse stato capace di creare un clima di coesione della città positivo a partire dal fatto che stava sempre in comune e tutti sapevano che stava lì a lavorare e questa profonda immersione nel dedizione era quasi non vi dico a prescindere dalle opere ma già una motivazione forte per creare un clima di fiducia allora ognuno il suo pezzettino lo faccia con animo leggero e trasferisca se possibile agli altri il buon umore che gli deriva da sapere di aver fatto ogni giorno un pezzetto di strada grazie 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 sindaco davvero Lucio mi trovo molto molto d'accordo su su questi passaggi di Giorgio anche su 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 Carmelo anch'io non so rispondere ragione Giorgio quando dici non so perché ma io non so non lo so proprio perché ma io ritengo che la mia felicità non possa prescindere da quella degli altri non lo so perché ogni tanto me lo chiedo però non lo so forse perché forse perché siamo animali sociali no? forse perché da John Donne in poi sappiamo bene che l'uomo non è un'isola John Donne Thomas Merton persino Hemingway no? per chi suona la campana quando suona la campana molto suona per me perché io sono parte dell'umanità e quindi quando qualcuno se ne va c'è un pezzo di me che si perde quindi forse è per questo che la felicità è una felicità condivisa si parlava prima dello scambio io sono dicevi Michele io sono convinto che lo scambio nelle relazioni con gli altri ci si arricchisca sempre noi all'università facciamo spesso convegni su convegni su convegni che sembra quasi un modo di parlarsi uno sugli altri no non è così quando uno fa un convegno non è importante ciò che dice è importante ciò che ascolta dagli altri perché quando io esco da una conversazione non esco da un convegno ma anche quando esco da una conversazione come questa io esco certamente più ricco di prima perché io ho esporto qualche idea ma sono diventate mie anche le loro idee l'idea è super additiva uno può impossessarsene senza privare della medesima idea l'altro quindi io penso che ascoltare tutte le idee ascoltare tutti i pareri ascoltare ogni opinione non possa che arricchirti casomai vai pari sei proprio proprio casomai vai pari ma in ogni caso ti arricchisce vi racconto un episodio che mi è successo appunto questa settimana a Santiago c'era un percorso di trasferimento noioso ogni tanto oltre ai boschi ci sono anche dei passaggi a lato delle carreteras noioso sotto il sole caldo e vedo distante di fronte a me quella che mi sembrava una signora non riuscivo a capire l'età che avanzava piano lentamente e zoppicando allora io accelero il mio passo e gli arrivo a fianco dopo 20 minuti gli ero a fianco e mi affianco e gli chiedo se avesse qualche problema ero armato di medicinale bisogna avere un po' di medicinale con le vesciche le tendiniti il mal di schiena eccetera grazie a Dio non le ho usate ma le avevo allora lei dice scopro che è una signora israeliana non l'ho chiesto all'età però non era distante dalla mia più o meno avanzava molto lentamente quindi sofferente in una maniera terribile gli ho dato qualche farmaco e poi sono stato con lei perché era sola il suo marito era avanti tra 4 km si vede che lì non usa sono stato con lei quindi per alla fine 8 km probabilmente al termine di questo lungo trasferimento e devo dirvi che io ho imparato in queste due ore sì non è me due ore in queste due ore molto più dei 40 anni precedenti della situazione arabo-israeliana ma molto più ancorché fosse un punto di vista di parte evidentemente e penso che lei abbia imparato molto di più o comunque abbastanza dal punto di vista di un occidentale di un italiano di un occidentale sulla situazione arabo-israeliana da 48 in poi rispetto a quanto invece avesse appreso diciamo così dialogando nella propria comunità c'è il tema che Michele ha sollevato che è quello dell'implicarsi che a me intriga molto non riesco a non citare che 150 anni fa il pontefice ci diceva cose diverse più o meno 150 anni fa Pio IX diceva forse è meglio che voi anzi che noi cattolici stiamo fuori dall'arena politica il non expedit o expedit era un po' arrabbiato per il termine del potere temporale era un po' arrabbiato per Porta Pia era un po' arrabbiato per i sovrani italiani e quindi disse ai cattolici non implicatevi in politica ora io non mi ergo a giudice di questo Papa Benedetto prima di lasciare il pontificato in un passaggio diceva non regiamoci a giudici di ciò che la Chiesa faceva in quei tempi qui ben che meno lo posso fare io però non posso non mettere a confronto invece questo Papa di nuovo perché questo Papa di nuovo in una in una udienza che ha fatto ha usato questa espressione che a me piace moltissimo ma un cattolico può fare politica la risposta è deve e andava a braccio aveva con sé il testo poi si vede su in tv si vede sul sito del Vaticano aveva il testo con sé l'ha messo a parte ed è andato a braccio e quindi diceva ma un cattolico può fare politica deve ma un cattolico può immischiarsi nella politica deve e poi va avanti e dice sempre per riprendere il tema del bene comune e del martirio il martirio è un'espressione di questo Papa cercare è un martirio dice perché bisogna cercare il bene comune senza lasciarti corrompere e immischiati dai il meglio di te se il Signore ti chiama a quella vocazione fai vai e fai politica questo termine immischiati mi intriga molto mi sono chiesto se il Papa si sbagliasse non è tema di fede quindi si può sbagliare no? non essendo di lingua nativa italiana perché in italiano immischiarsi vuol dire intromettersi talvolta io penso che invece lui lo usi nel senso di gettarsi nella mischia magari comprende anche il significato italiano in modo un po' provocatorio lo usa lo stesso allora io penso che sia indispensabile immischiarsi buttarsi nella mischia dell'agone politico perché io non riesco come sono sicuro che fa Giorgio che vede Giorgio non riesco a distinguerli immischiarsi nella politica dalla felicità degli altri non lo so perché esordivo esordivo anche Giorgio dicendo io non so perché mi rendo conto che la mia felicità non possa prescindere da quella degli altri ma ho la sensazione pur non essendo in politica che sia difficile pensare realmente di fare politica alta politica grande senza non immischiarsi rischiando di sporcarsi le mani il Papa diceva non preoccuparti tu provaci e fai poi prega il Signore perché in qualche modo tu riesca a non sporcarti le mani ma tu ci devi provare lo si trova questo lungo passaggio mezz'ora tre quarti d'ora proprio sul sito del Vaticano e si coglie anche con quante enfasi il Papa induce tutti a muoversi nella politica intesa di nuovo come bene comune c'è un passaggio in più che a me piace ricordare e che mi sono scritto mi sono fatto un taglio in colla sempre dalla laudatossia e che credo che molti qui apprezzeranno perché usa questa espressione e leggo testualmente qual è il posto della politica e il Papa dice ricordiamo il principio di sussidiarietà che conferisce libertà per lo sviluppo della capacità presente a tutti i livelli ma al tempo stesso esige responsabilità verso il bene comune ora siamo a Bergamo in linea con la dottrina sociale della Chiesa consentitemi di ricordare un altro gigante oltre che questo Papa ancorché fosse un gigante del secolo scorso che era un gigante antelitteram del concetto di sussidiarietà orizzontale e dell'immischiarsi che era Nicolò Rezzara come sapete è stato il fondatore dell'eco di Bergamo ma è stato il fondatore anche di quello che fino a poco tempo fa si chiamava credito bergamasco o del piccolo credito come si chiamava e nonostante il non expedit quindi nonostante questa indicazione papale di non immischiarsi in politica si buttò totalmente in politica per il sostegno diciamo delle classi meno agiate di questo territorio e credo che abbia insegnato a tutti cosa voglia dire sussidiarietà e immischiarsi io penso che Nicolò Rezzara sia stato un gigante dell'immischiarsi vorrei partire dalla domanda che riproponeva Lucio non è la forma ma perché io non posso prescindere dall'altro dal rapporto con l'altro e anche il sindaco Giorgio anche Giorgio diceva si riproponeva l'interrogativo si tratta di una delle cose che più mi mi fanno pensare io direi così perché io divento me stesso attraverso l'altro io non sono già me stesso nessuno di noi è già se stesso senza l'altro uno diventa se stesso attraverso l'altro basta pensare come siamo nati e come siamo cresciuti nessuno è diventato se stesso da sé ciascuno è diventato se stesso attraverso l'altro l'altro innanzitutto è la madre o chi ne fa le veci perciò noi non prima di andare verso l'altro noi veniamo dall'altro per questo noi non possiamo prescindere dall'altro certo questo dice la struttura della nostra esperienza ma allora riprendo la domanda dopo aver fatto questa osservazione cosa vuol dire che l'altro è un bene nella politica ho premesso l'osservazione perché è impossibile rispondere a questa domanda se prima non ci si chiede ma cosa vuol dire che nella vita l'altro è un bene perché la politica è una dimensione della vita e se non scopriamo perché nella vita l'altro è un bene ci sarà difficile dire in che senso lo è nella politica un bene l'altro e io posso dire per l'esperienza che ho io non sono un politico quindi io non posso dirlo da politico ma lo dico da persona impegnata nella polis nell'università che comunque ha sempre una dimensione politica e che l'altro mi è necessario per sviluppare me stesso e per sviluppare una azione che possa costruire non c'è niente di più deludente che vivere inutilmente come Giorgio diceva prima e sono gratto anche dell'osservazione d'esordio della seconda risposta che io credo sia perfetta il problema è che io viva nella indifferenza degli altri perché l'indifferenza è il primo grado della guerra dell'ostilità lo si vede in famiglia quando si fa finta che l'altro non esista quello è il primo grado dell'ostilità che di lì a poco esploderà quindi l'indifferenza è diciamo la guerra nel suo grado minimale e perché in politica è un bene perché per costruire io ho bisogno dell'altro per costruire me e per costruire il contesto in cui sono è un accenno che faccio senza nessuna pretesa ma noi parliamo di politica politica è una parola greca e noi diciamo il politico il Giorgio il politico no? Giorgio Gori sindaco di Bergamo un politico e quando diciamo politico parliamo greco la politica l'azione politica era l'azione più alta nella polis nella città greca nella società greca perché era l'espressione della coscienza dell'interdipendenza fra i soggetti il mio bene non è sganciabile dal tuo e dal nostro no? era l'espressione della coscienza della interdipendenza ed era l'azione di chi si faceva carico degli altri ed era considerata un'azione nobile la più nobile e questo in qualche misura ciò che va riguadagnato e cioè che il farsi carico sia la partenza non l'accidente della scelta di una azione politica di intraprendere una azione politica e ciò che veniva diciamo fino a qualche tempo fa decennio fa ma il problema non è il passato contro il presente ma è l'esigenza che nel presente si ripone ciò veniva affrontato partendo dal basso perché l'azione politica partiva come un farsi carico nella circostanza nella circostanza territoriale rionale e così via e poi si ascendeva non si partiva catapultati col paracadute dall'alto è più facile che venendo catapultati dall'alto questo non sia il primo impeto dell'azione politica e il farsi carico l'interesse per l'altro è direi quel tasso di idealità che innerva l'azione politica senza del quale resta il calcolo dei vantaggi ma allora perché perché l'incontro con l'altro come Pizzaballa diceva citato da Michele prima ripeto la frase come l'ho scritta non posso essere cristiano senza il rapporto con musulmani ed ebrei che vuol dire che lui non può scoprire la sua identità di cristiano fino in fondo senza l'incontro con l'altro che è l'altro vicino che è l'altro anche come diverso come inizialmente estraneo forse no? Perché l'altro è un bene in politica perché senza incontrare l'altro non c'è costruzione possibile e c'è soltanto esasperazione del conflitto quindi l'altro è una condizione della costruzione l'incontro con l'altro è una condizione della costruzione è una condizione necessaria e come nella stessa dinamica di prima non c'è costruzione di sé che non sia costruzione del contesto e viceversa non c'è costruzione del contesto vera che non sia costruzione di sé perciò è interessante anche la parola immischiarsi che è usata prima buttarsi nel lagone nel lagone politico e cosa stiamo facendo qui io non conoscevo nessuno degli interlocutori tranne chi dirige sorprendiamo e sarebbe anche inevitabile vederne gli sviluppi sorprendiamo che possiamo dialogare e dunque costruire e dunque integrare e avanzare nella consapevolezza di ciascuno e nella consapevolezza comune perché ci incontriamo distinguendo la parola incontro e la parola dialogo l'incontro è la condizione del dialogo non c'è il dialogo tra ideologie pensieri visioni del mondo tendenzialmente quando sono le visioni del mondo a confrontarsi c'è lo scontro sono le persone che si incontrano e per dialogare devono incontrarsi senza l'incontro c'è la morte la morte di sé la morte della società se c'è qualcosa di mortale per una società è la chiusura il chiudersi su di sé significa che non entrando l'altro non entra più l'ossigeno necessario per crescere la chiusura è sempre mortale così come mortale o sfigurante è quella apertura che non parte da un'esperienza vissuta ma da un'assenza di volto allora non c'è incontro perché l'incontro è fra due che hanno qualcosa da dirsi e da documentare bella l'idea che un politico sia un testimone bella e inusuale o meglio retoricamente utilizzata perché è conveniente dire che il politico è un testimone ma nel modo in cui l'ha usata Giorgio prima è interessante almeno per la ricezione che io ne ho di che cosa il politico è testimone è testimone diceva lui della gratificazione che l'attenzione all'altro procura cioè che il farsi carico procura e questo è il germe di una rinascita anche delle relazioni politiche cioè che uno possa testimoniare che è vantaggioso farsi carico cioè servire l'utilità è un vantaggio è una soddisfazione allora vi chiedo l'ultima l'ultimo giro l'ultima battuta una battuta finale tenendo conto di questa domanda che ponga adesso che mi sembra che c'entri molto anche con questa cosa molto interessante che diceva il sindaco prima proprio sul rendere dimostrabile l'utilità dell'impegno personale qual è secondo voi la scintilla per il quale un giovane oggi può implicarsi in politica le ragioni per cui un giovane può dire ma che bello mi butto in politica lo dico proprio perché questo è un dibattito aperto quando spesso i più giovani si affacciano e devono superare come dire una montagna di luoghi comuni prima di arrivare ad alcune delle cose interessantissime secondo me che sono uscite oggi allora vi chiedo appunto una battuta finale e una risposta a partire dalla vostra esperienza a questa domanda che ho fatto grazie la mia esperienza la mia esperienza è che mi sono lasciato implicare nella politica quando avevo 15 anni ed è lì che ho contratto questa malattia contagiosa che ho verificato può andare in sonno per molto tempo e poi all'improvviso torna fuori e torna a manifestarsi nel senso che io mi sono proprio appassionato di politica quando facevo il liceo dove un altro protagonista della vita bergamasca di oggi Andrea Moltrasio che ha qualche anno più di me aveva a liceo appunto fondato un gruppo giovanile parliamo degli anni primi anni 70 74 75 e e così la partecipazione alle attività studentesche in una stagione in cui appunto c'era un clima comunque piuttosto vivace come ricorderete mi ha pian piano portato a entusiasmiarmi per questa cosa poi la dimensione delle questioni è quella che potete immaginare ho ritrovato i volantini di questo nostro gruppo quello che appunto aveva fondato Andrea che poi ho ereditato che si chiamava azione libertà e il programma elettorale era proprio da veramente di un'ingenuità incredibile per cui era più spazio per auro e studio poi più accessibilità dalla palestra cioè non grandi cose come potete immaginare però appunto da lì nasce dal sapere che se ti impegni succede qualcosa cambia qualcosa esattamente come io sono resto convinto che le stagioni di di disillusione di presa di distanza dalla politica a volte di derive anche violente dell'azione politica siano nate nella storia recente del nostro paese dalla dal senso di inanità dal senso di essere impossibilitati a cambiare le cose dalla distanza che a un certo punto si è verificata esserci tra i desideri le aspettative i sogni e ciò che concretamente poteva accadere la stagione del 68 ha prodotto poi un rimbalzo di appunto di disillusione molto pesante così quella che dieci anni dopo ha dato luogo al terrorismo è molto importante che quando una persona spende del tempo abbia possibilità di misurare che qualcosa succede e questo vi ripeto non immaginatelo nella dimensione della grande politica nazionale poi a quella uno arriva eventualmente ma nella dimensione di partecipazione alla vita sociale che ognuno di noi ha alla sua portata per cui un ragazzo alla fine se perde del tempo se prova a lasciarsi coinvolgere è importante che abbia poi un ritorno allora noi abbiamo sperimentato l'anno scorso durante la campagna elettorale e poi dopo soprattutto dopo un fenomeno di coinvolgimento di un numero significativo di giovani intorno alla mia candidatura prima alle primarie e poi alle elezioni che si è tradotta poi nella presenza di alcuni di questi ragazzi scelti dai loro coetanei nelle liste elettorali e per alcuni di loro non tanti due o tre nella presenza oggi in consiglio comunale noi oggi abbiamo dei consiglieri comunali di 22 anni che studiano vanno a fare gli esami poi pomeriggio vengono in commissione poi vanno e sono vi garantisco i più attivi più propositivi più concreti nel fare le cose perché poi spesso appunto l'amministrazione tende un po' a restringersi intorno al lavoro della giunta il consiglio è un po' così di maniera sia nella sua componente di maggioranza che è chiamata a votare sempre a favore quello che propone la giunta sia di opposizione che all'opposto vota sempre contro e deve sempre trovare qualcosa che non va in quello che viene proposto e in questo caso invece in una posizione di maggioranza ho visto dei ragazzi trovare la misura concreta del loro intervento e trarre credo gratificazione da quello che stanno facendo in questo modo a loro volta diventano contagiosi verso altri ragazzi e riescono fuori dalla dimensione del consiglio a ricreare aggregazione a coinvolgere i coetanei eccetera eccetera dunque io penso che questo debba accadere cioè che poi che le cose abbiano un esito e che se posso aggiungere no ma ho detto abbastanza non aggiungo niente dai va bene così grazie mi consenti io risponderò alla tua domanda ma lasciami dire che io ti sono molto grado per questo invito perché esco di qui molto ricco molto più ricco di prima per quanto ho ascoltato da te da Giorgio e da Carmine e ti devo dire che non vorrei neanche rispondere perché tutto sommato sono molti in linea con quanto ha detto però faccio una breve considerazione e faccio una breve battuta la considerazione su quanto diceva Carmine lui diceva l'incontro l'importanza dell'incontro no? molto che del dialogo io ricordo che un economista alla fine del settecento Jean-Baptiste diceva guarda che dove non passano gli eserciti dove non passano le merci prima o poi passano gli eserciti cioè se tu non hai occasione di incontro con l'altro comincia con l'indifferenza come dicevi o poi prima o poi va in conflitto ricordiamocelo per i muri che si stanno alzando in questi momenti in Europa fisici o virtuali ecco bisogna che ce lo ricordiamo la battuta invece era per Giorgio perché Carmine ha citato la polis e io mi sono ricordato che il giuramento che veniva chiesto ai sindaci tra virgolette Atenesi era quello di restituire una città migliore rispetto a quella che aveva ricevuto io sono sicuro che sarà così con Giorgio anche se non so se abbia fatto esplicitamente questo giuramento ma implicitamente l'ha certamente fatto rispondo alla tua domanda Giorgio ha risposto benissimo quindi io sottoscrivo allora anziché fare una risposta alta e bella come quella di Giorgio do una risposta molto pragmatica perché un giovane dovrebbe occuparsi politica perché gli conviene perché gli conviene perché se le nostre forze migliori i giovani più brillanti non sono tutti uguali i giovani noi all'università lo vediamo bene ci sono le menti brillanti e ci sono le menti se i giovani più brillanti più capaci più orientati agli altri non si implicano in politica ci andranno gli altri cioè ci andranno quelli meno capaci diciamo meno capaci anziché incapaci ci andranno i meno capaci i meno brillanti e quindi produrranno provvedimenti meno brillanti rispetto agli altri mi dovrebbe usare proprio le parole di Pio Nonno non expedit non conviene lasciare andare in politica agli altri proprio non conviene noi usiamo un'espressione che è selezione avversa cioè accade che se questi momenti difficili di populismo e di antipolitica soprattutto di antipolitica allontanano i giovani dalla politica perché visto come cosa brutta come cosa da corrotti come cosa da fare non per il bene comune che è stato l'argomento di questo bell'incontro ma per profitto personale se questi prevarranno insomma a loro non conviene a loro che hanno molti più anni rispetto a noi o a me di vivere non conviene proprio ecco perché accanto a ciò che dice Giorgio e chi sottoscrive c'è anche un termine molto grammatico non conviene non implicarsi in politica parto da quest'ultima perché un giovane dovrebbe implicarsi in politica perché gli conviene e c'è tuttavia un evidente disinteresse no per la politica è bello sentire le eccezioni io faccio leva sulla mia esperienza universitaria e devo dire che in contrasto con luoghi comuni non verificati perché poi ciascuno li ripete ma non li localizza mai non dice mai nomi e cognomi io in università non ho mai incontrato giovani strutturalmente disinteressati disinteressati a quello che si trovano davanti fino alla politica cioè fino alla realtà sociale nel suo insieme io non ho mai trovato giovani strutturalmente disinteressati ma e mi domando quindi come mai può esservi un disinteresse forse positivamente dovrei dire che cos'è che attraverso l'esperienza in università io noto che sia capace di destare interesse uso le mie armi ma credo che siano alla portata di chiunque anche di chi non fa questo mestiere Aristotele diceva che una cosa passa dalla potenza all'atto solo in virtù di qualcosa che è già in atto che è come dire se io ho iniziato a far politica 15 anni è perché sono stato contagiato da qualcuno che potevo vedere e che faceva già politica in un modo affascinante o conveniente si fa politica come si fa qualunque cosa per contagio cioè perché ci si imbatte in qualcuno in cui è già in atto qualcosa che in potenza è anche in noi questa dinamica si chiamerebbe con un'altra parola educazione e quindi il problema di un disinteresse non è tanto un problema dei giovani direi che è un problema degli adulti è il problema di incontrare adulti generativi cioè adulti capaci di contagio quando faccio lezione dirò in un minuto un esempio che mi rimane sempre quando vado a fare lezione e mi è capitato rarissime volte anche perché mi annoio e non funziona e mi dispiace quando non funziona e comunico magari in una certa lezione perché ho più cose che si sovrappongono un che di già fatto io vedo che l'attenzione collassa perché io non sono in gioco cioè so già quello che devo dire quando invece vado a lezione e questa è la maggior parte delle volte perché mi diverto di più mi piace di più con un certo travaglio in me perché sto scoprendo le cose che dirò ma non sono arrivato a una definizione completa delle cose che dirò e quindi mentre le dico ci penso e scruto le reazioni per capire come che consistenza hanno le cose che sto dicendo io mi accorgo che l'attenzione è massima e c'è un contagio perché l'altro è suscitato soltanto quando vede una persona che è in gioco in quel che fa che cresce in quel che fa scopre in quel che fa che impara insegnando e allora suscita è questo che occorre occorrono adulti testimoni come diceva prima il sindaco che documentino la convenienza e occorrono luoghi in cui questo possa avvenire di più cioè luoghi dove sia possibile quella che è Havel chiamava con una bellissima formula la vita nella verità ma la vita nella verità è la vita di un docente che mentre insegna sta cercando che non ha già come dire impacchettato quello che dirà e quindi lo fornisce come un sapere morto ai suoi interlocutori non lo sta cercando vitalmente lo sta cercando questo è ciò che provoca attiva la potenzialità dell'altro occorrono luoghi in cui possa rigenerarsi una tensione ideale ma la tensione ideale non è la tensione a guardare in su verso le nuvole a meno che non si faccia gli astrologi o gli astronomi oppure gli scienziati la tensione ideale è la tensione si potrebbe dire con la frase più banale all'ottimo al meglio quando ero bambino mi regalarono un camioncino e io cercai di capire come funzionava e di farlo funzionare al meglio la tensione ideale è la tensione all'ottimo consegnare una città migliore di quella che si è lasciata che si è presa in consegna la tensione ha un compimento si potrebbe dire ha un destino ha un significato occorrono luoghi che possano consentire il rigenerarsi perché non è automatico e niente di umano è automatico allora la vera domanda è ci sono luoghi dove sia possibile la vita nella verità cioè la rigenerazione di una tensione ideale una tensione cioè propriamente umana una tensione al compimento alla perfezione ci sono luoghi e tutto dipende da questo cioè la nostra società è appesa a questo filo e non è utopia che ci siano politici come quelli di cui abbiamo sentito far la citazione io sono molto contento di quello che è stato detto no? e non è detto che non si possa che questo non possa arrivare a modificare le cose anche nella vita politica la partenza dal basso è sempre possibile e non occorre nessun ingrediente tranne che la presenza di persone che già vivano quella tensione che vivendo comunicano rigenerando persone e il tessuto è possibile occorre che ciascuno lo desideri lo dico per me innanzitutto lo desideri per sé senza aspettare che per esempio l'istituzione università cambi perché in un certo senso non cambierà e in un altro senso già sta cambiando per il fatto che ci sono persone come queste grazie davvero davvero io ringrazio tantissimo vi ringrazio tantissimo tutti Lucio Sindaco Giorgio e Carmene per oggi io penso realmente che attraverso questo incontro abbiamo capito di più lo dico descrivendo la mia esperienza mi sono sentito un po' contagiato realmente credo anche che abbiamo capito che la domanda che cosa cercate che rimane aperta e sarà trattata anche nei prossimi incontri si capisce di più lasciandosi un po' contagiare grazie